Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Piangere la memoria, Lamento funebre e culture medievali di Andrea Ghidoni con una prefazione di Corrado Bologna. Noi abbiamo il grande piacere di avere con noi l'autore al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questi lamenti funebri medievali che sono interessantissimi. Prego a lei. Benissimo, grazie Maurizio Pellì per l'invito e per la proposta. Mi fa molto piacere presentare il volume in questa sede. Allora, voglio in maniera molto breve sintetizzare i contenuti del mio lavoro. Partirei dal sottotitolo, Lamento funebre e culture medievali. C'è un contrasto, una forma al singolare, Lamento funebre, e una forma al plurale, culture medievali, che è un po' la dialettica che attraversa il mio libro tra una prospettiva antropologica, quella del Lamento funebre, una forma al singolare, teoricamente universale, quanto il Lamento funebre è un rito, è una costumanza, un costume più o meno diffuso in moltissime culture umane, e le culture medievali. Non una cultura medievale, ma una pluralità di culture medievale, proprio per far emergere il modo in cui questa forma, diciamo, universale, da virgolette, vorremmo meglio definirla, si entra in dialettica, entra in dialogo con la pluralità, la polifonia del mondo medievale. Allora, cos'è questo Lamento funebre, da cui partiamo, questa forma singolare? Naturalmente dovremmo partire dal classico, da un'opera classica sul Lamento funebre, che è Morte e il pianto rituale di Ernesto De Martino, un libro che parla poco di medioevo, però è un libro che è un classico della filosofia, delle storie, delle religioni, dell'antropologia italiana. Bisognerebbe, diciamo, conoscere al di là degli interessi sul medioevo. È un libro bellissimo, però scritto anche in maniera molto elegante. Che cosa dice De Martino, in sostanza? In sostanza dice che l'uomo, tanto l'individuo quanto delle comunità, di fronte a certi traumi, a certe crisi, perdono, diciamo, in qualche modo il contatto col proprio mondo. Entrano in crisi tutti i valori. Ecco, tra questi traumi, tra queste crisi possiamo includere anche la crisi provocata dalla morte di una persona carna, di una persona importante, di una persona che aveva un ruolo in una certa società, o anche semplicemente un ruolo nella vita di un individuo. Di fronte a questo trauma che è la morte della persona cara, tutti i valori umani, tutti i valori culturali, cioè tutto il mondo in cui l'uomo, l'individuo, la società è abituata ad agire e a riconoscersi, entra in crisi, entra in disfacimento, inizia un processo di disfacimento. Ecco, è una, diciamo, una situazione proprio apocalittica, di fronte, per esempio, alla morte di una persona importante o una persona cara. E di fronte a queste crisi, da tempo in memore, le società umane hanno sviluppato, possiamo dire, degli anticorpi, delle tecniche per sopravvivere a queste crisi. Sicuramente, di fronte a un trauma di questo genere, una delle prime azioni umane, individuali, è quella di esprimere il lutto, il dolore. Un dolore parossistico, evidentemente, un dolore che strazia e da cui l'individuo non è più in grado di risollevarsi. Qual è lo scopo di questi strumenti tecnici che inventa, tra virgolette, la società, tutte un po' le società? È quella di trovare delle tecniche per sopravvivere a queste crisi. Delle tecniche che permettano all'individuo, alla società, di proseguire, di incanalare, di metabolizzare, di diluire il dolore e, diciamo, dare un valore a questa esperienza e cercare di recuperare la propria identità, il proprio mondo, il proprio orizzonte domestico, l'orizzonte familiare in cui, diciamo, la vita, tanto dell'individuo quanto dei gruppi umani, è abituata a svilupparsi. Quindi, tutti i riti funebri, con cui anche il lamento, servono proprio per cercare di compartire il dolore. Non solo l'individuo colpito, ma tutta la società condivide il dolore e, attraverso queste tecniche tradizionali, ecco, se è una data di forme tradizionali, riti, lamenti, liturgie della morte, ecco, tutte queste forme servono proprio per evitare che la crisi debordi, diciamo, e annulli l'essere umano. Attraverso la cultura, la cultura è in grado di auto-rigenerarsi e di sopravvivere alla tragedia. Ora, appunto, il lamento funebre è una di queste tecniche. Una di queste tecniche in cui, diciamo, viene regolato, viene organizzato il dolore individuale o di un gruppo. Ecco, ci sono proprio delle... non è lasciato all'individuo il compito di metabolizzare il dolore, ma viene esercitato, viene elaborato attraverso delle forme tradizionali, forme che la società ha già stabilito nel corso delle generazioni. Il lamento funebre, naturalmente, è diffuso soprattutto a livello folclorico. Nel Martino si occupa soprattutto del lamento antico e del lamento folclorico che, ai suoi tempi, negli anni cinquanta, ancora resisteva in certe, diciamo, aree meno civilizzate, soprattutto nell'Italia meridionale, nella Lucania, la stessa Lucania di Carlo Levi, del Cristo si è formato e a Deboli. Quindi, in queste zone ancora resisteva questo lamento folclorico. Questo lamento funebre che era, appunto, diffuso fino a pochi tempo prima, adesso ormai sono poche di società, almeno nell'Europa civilizzata, che mantengono questo costume, ma magari in altre aree del pianeta ancora questo costume è conservato. Quindi, da sempre, nel folclore, nella cultura popolare, il lamento funebre ha esercitato un ruolo molto importante. Anticipo che non parleremo del libro, quando parleremo adesso tra poco di Medioevo, non parleremo di lamento folclorico, ma parleremo di lamento letterale. Giusto una parentesi di anticipazione. Comunque, che cosa, diciamo, dice questo lamento? Il lamento funebre ha tutte le latitudini, che cosa, che antropologia presenta, che immagini dell'umanità presenta. Innanzitutto, è un'espressione di dolore, ovviamente. Quindi, uomo, il lamentante, possiamo dire il soggetto che lamenta, che può essere singolare quanto plurale, il lamentante esprime tutto il suo dolore. Il dolore che si manifesta nella autodistruzione del soggetto, il soggetto nel più in grado di mangiare, di parlare, di pensare, è ossessionato, ovviamente, non riesce a superare il lutto, riconosce come evento drammatico e dirompente la morte della persona cara, e quindi, diciamo, annulla se stesso e il proprio mondo in questo dolore. Ma, allo stesso tempo, non si rivolge solo al presente, il lamento funebre, si rivolge anche al passato. I lamenti funebri includono anche una memoria del defunto. Il defunto viene rappresentato come una sorta di eroe, di eroe del passato. Viene costruito un mito del defunto. Il defunto era in grado di mantenere, per esempio, nel caso di un lamento familiare di un parente, era in grado di mantenere unita la famiglia e si occupava del sostentamento della famiglia. Tutta la famiglia dipendeva da lui. Poi, in altri tipi di società, per esempio, se si parla di un re o di un maestro o di un vescovo, entriamo anche nei temi del Medioevo, ovviamente il tipo di società che affronta la morte si allarga, ovviamente. Quindi, diciamo, il defunto diventa il perno della società, ecco, in questa memoria. Che lo fosse realmente o che non lo fosse, comunque nel lamento funebre appare come tale. Il defunto era il perno su cui il cardine, su cui si era costruita una società grande o piccola che forse era essenziale per la vita degli individui o anche soltanto di un individuo soltanto. Quindi, si si è rivolgendo al passato e si costruisce questo mito del defunto, un defunto eroe, infatti lo chiamo nel mio libro, nel senso che è una figura quasi mitica, una figura storica, reale, che le persone che lamentano hanno effettivamente conosciuto, è che nel lamento viene trasfigurata in senso mitico. Ecco, tutto il mondo dipendeva da questa persona, una volta che questa persona cessa di vivere, il mondo si sfalta. Ma non c'è soltanto una prospettiva sul presente e sul passato nell'ambiente funebre, ma anche sul futuro. Il problema è che nel presente la memoria degli individui si è annientata, non si ricordano più di cosa fossero, di cosa siano. Nel passato si costruisce una memoria mitica, nel passato una memoria che si ricorda il defunto come fosse stato il perno, l'elemento essenziale per gli individui che lo piangono. Per il futuro invece bisogna cercare di far sopravvivere una memoria, la memoria della società che si deve perpetuare, deve superare il defunto e al suo tempo si cerca di ricordare, di mantenere, di far sopravvivere la memoria della persona scomparsa. Facciamo un esempio. attraverso vari procedimenti rituali. Per esempio, nel medioevo un procedimento, una tecnica rivolta al futuro molto diffusa è la preghiera, la preghiera a Dio affinché salvaguardi l'anima del defunto nell'aldilà. Cosa comporta questo? Vuol dire che il defunto, in un certo modo, è conservato nell'aldilà. Quindi la memoria del defunto, così più o meno le sue caratteristiche personali, individuali, come erano state conosciute dagli individui del rencor in vita, si mantengono anche nell'aldilà. Ma soprattutto per i viventi, per i sopravviventi, è una consolazione. Quindi, in questo modo, pensare che il defunto sia nell'aldilà, poter pregare Dio tutti i giorni, attraverso anche varie forme liturgiche, come delle messe, o visitando il sepolcro, visitando le reliquie di questo defunto, si possono mantenere, si può mantenere il ricordo, l'identità delle società e, appunto, pregando Dio, si mantiene in vista, in qualche modo, il defunto. Quindi i lamenti funebri non sono soltanto dolore, ma sono delle prospettive che costruiscono, costruiscono il presente, il presente ormai è nullato, si vive nel dolore, nella distruzione, si costruisce un passato, un passato che è mitico, sostanzialmente, in cui il defunto era il perno di una società e si costruisce anche una prospettiva sul futuro. Non è la fine di tutto, non è un mondo che finisce e che ormai è annullato e annientato, ma nel lamento fune si può proseguire se intervedono delle prospettive simboliche per mantenere la memoria tanto del defunto quanto della società e, soprattutto, per chi lamenta, chi produce e lamenta, è importante soprattutto la preservazione dei sopravviventi della società e in modo tale che la vita possa in qualche modo continuare. Questa, allora, è una presentazione molto sintetica di cosa significhi lamento funebre, tanto in generale nella letteratura antropologica dell'anestro di Martino quanto, diciamo, nell'opera che presentiamo. Vediamo, allora, finalmente al Medioevo. Che tipo di lamenti ci ha lasciato il Medioevo? Naturalmente non ci ha lasciato lamenti folclorici, i lamenti di tutti i giorni, i lamenti che venivano pronunciati effettivamente dal vulgo e dal popolo e via dicendo. Queste sono tradizioni, ovviamente, sommersi, tradizioni effimere, ormai scritte, quindi solamente nel momento in cui venivano pronunciate erano, scomparivano, sono state delle tradizioni che, sostanzialmente, possiamo ricostruire attraverso il folclore moderno, un po' come faceva De Martino per il lamento antico. Sostanzialmente, se andassimo a vedere come i contadini della Lucania piangevano i loro defunti negli anni cinquanta, possiamo immaginare più o meno che le loro forme tradizionali erano anche quelle usate, impiegate nel Medioevo. No, noi non ci occupiamo di lamento folclorico per il Medioevo proprio perché non ne abbiamo traccia, io mi sono occupato di un altro tipo di lasto del Medioevo, che è il lamento letterario. Perché il Medioevo, anche rispetto all'antichità, rispetto ad altre epoche della storia europea, si caratterizza proprio per una grandissima produzione letteraria, quindi a livello volto, a livello scritto, di lamenti funerari. Quindi il Medioevo, nelle sue varie lingue, latino, provinciale, italiano, francese, spagnolo, ma anche tedesco, inglese, in tutte le sue grandi lingue letterarie che lo attraversano, che attraversano la cultura europeo-occidentale, il mondo europeo ha scritto, ha prodotto tantissimi lamenti funerari, ci ha prodotto nel Medioevo. Nell'antichità, per l'antichità abbiamo pochissimi lamenti funerari, forse quasi nulla, ci ricordiamo però qualche lamento narrativo dell'antichità, per esempio i lamenti di numero su Ettore, per esempio nell'Iliade, un esempio, sono pochi i lamenti su Adone, nella religione antica, i lamenti di Venere, sì, i lamenti su Adone, e invece il Medioevo ce l'ha fatto tantissimo i lamenti funerari letterari, soprattutto in latino. E chi sono le persone lamentate? Chi sono gli autori di questi lamenti funerari? Allora, cominciamo a parlare dei funerari in latino, che poi sono anche quelli più numericamente cospicui, quelli più numerosi, strato per un centinaio di testi, che vengono scritti dall'epoca carolingia fino al 200-300, con questo arco temporale molto lungo. Chi sono i defunti di questi lamenti funerari? Sono soprattutto personaggi illustri, sicuramente come facilmente è intuibile, e sono quindi imperatori, re, grandi vassalli, grandi signori feudali, vuchi, conti, dicendo, ma anche personaggi della vita ecclesiastica, quindi della gerarchia ecclesiastica, pescovi, abati, monaci di un certo rilievo. Ecco, papi non ce ne sono, quindi i lamenti funerari sui papi, e ce ne sono soprattutto molti sui vescovi, sui duomini di chiesa. E ci sono anche moltissimi pianti sui, per esempio, che io chiamo i doctoris, cioè i grandi maestri del sapere medievale. Ecco, un po' queste sono le figure che vengono lamentate in questi lamenti letterari del medioevo e soprattutto in latino. In questo genere letterario molto diffuso tra tutti i grandi paesi d'Europa e, appunto, che viene scritto più o meno dall'epoca carolingia fino al due trecento, questo genere letterario va sotto il nome di plantus. Ecco, è conosciuto con il nome di plantus, cioè pianto in latino. È un genere letterario del latino medievale molto diffuso in cui si applicano e si mettono alla prova diversi poeti, conosciamo per nome o anonimi, molti poeti di questi secoli. Quindi, appunto, abbiamo questo centinaio di testi in latino. I defunti sono quelli che ho detto, i re, i grandi feudatari, gli imperatori, i descovi, i monaci, gli abatti, i doctores. Chi è che scrive questi lamenti funibri? Sono soprattutto poeti, ovviamente personaggi corti, quindi chierici, che diciamo la cultura alfabetizzata è appannaggio soltanto degli uomini di chiesa, del chiero, tanto delle bacie quanto delle cattedrali. Questi chierici, questi poeti scrivono o per un impulso personale, oppure molto spesso per committenza. Quindi scrivono perché attraverso il lamento funebre letterario viene mantenuta, nel tutto senso, la memoria del defunto illustre. Viene scritto anche per conti della famiglia, perché attraverso questi lamenti funebri venivano anche accompagnati alla musica, erano musicati, quindi non si componeva soltanto il testo, ma venivano musicati e spesso venivano utilizzati in occasioni liturgiche o paraliturgiche, quindi per esempio durante le messe di sopraggio. Quindi non si tratta di lamenti che venivano pronunciati immediatamente, subito dopo la morte del grande defunto. Venivano scritti presumibilmente nelle settimane o nei mesi seguenti la morte e venivano utilizzate in circostanze non particolarmente drammatiche come poteva essere il funerale, ecco, ma in occasioni di propaganda politica, di propaganda religiosa, quindi durante le messe di soffraggio di memoria del defunto. Questa è la funzione dei lamenti funebri letterari latini. Ecco, poi vedremo altre funzioni di altri lamenti in altri libri. Quindi, che cosa si dice, per esempio? Prendiamo da i due più antichi lamenti funebri che ci sono conservati. Vediamoli brevemente. Il primissimo lamento funebre, diciamo, dell'epoca medievale, possiamo considerare il più antico plantus medievale, è quello per Enrico del Friuli. Quindi è una persona, un personaggio non noto, diciamo, non notissimo. Era un uomo di Carlo Magno, un nato nativo di Strasburgo, che al seguito. Carlo Magno aveva conquistato l'Italia, aveva liberato l'Italia dai gobardi e era stato, diciamo, gratificato con dei feudi in diverse zone dell'Italia, ma soprattutto in Friuli. In Friuli, Enrico del Friuli, appunto Enrico, il duca, combatte contro i pagani infedeli, che sono gli slavi, sostanzialmente le popolazioni slave dell'est dell'Europa. Quindi, sostanzialmente, è una nobile che difende i confini imperiali orientali, dalle ordine, diciamo, barbariche dell'area balcanica. Durante uno di questi scontri muore. E Paolino d'Aquileia scrive un lamento fulibre per ricordare questo grande signore feudale. E cosa dice di questo signore feudale? Naturalmente, tutti lo piangono, viene rappresentato il cordoglio collettivo, uomini, donne, preti, vedove, tutti, tutta la folla lo piange. E soprattutto viene, in un certo senso, rappresentata una crisi storica. Essenzialmente si immagina l'impero che verrà travolto ai propri confini da queste orde barbariche, proprio perché manca il baluardo difensivo. Questo, per esempio, è un primissimo caso. Un altro plantus molto celebre nel Medioevo, molto afferminato tra scritti numerosi manoscritti, è appunto quello di Carlo Magno. Già nell'814 abbiamo il secondo di questi numerosi plantus del Medioevo, e il secondo invece dedicato a Carlo Magno, quindi una figura un po' più rilevante storicamente. E anche di Carlo Magno non si ripete più o meno la stessa cosa, cioè che con la sua morte l'impero si spalderà. L'impero, quindi, una volta crollato l'imperatore che reggeva l'ordine cristiano, la civiltà cristiana, tutta la civiltà, sarà destinata a sfaldarsi. Quindi, vediamo un po' alcuni dei temi che caratterizzano il plantus medievale, soprattutto nell'epoca carolingia, ma soprattutto anche il plantus dei vari imperatori, l'epoca ottoniana e via dicendo, la tradizione di plantus imperiale. Vediamo quali sono i temi, soprattutto dei plantus politici. E cioè il fatto che, ed è proprio una caratteristica della società medievale, la morte del sovrano, sia il sovrano regionale, il grande fulgatario, il grande vassallo, o il sovrano universale, che è l'imperatore, nel momento in cui manca questa figura illustre, la civiltà è destinata a cadere. La civiltà cristiana verrà travolta. Ecco, questo è un tema molto importante dei plantus medievali, ecco, dei latini medievali, proprio perché è stato incorporato in un certo senso questo tema, che ovviamente è successivo alla caduta dell'impero romano e del fatto che, una volta venuto a mancare l'individuo, c'è essi anche, sostanzialmente, la civiltà cristiana, la civiltà europea. La città rappresentata di molte volte dall'imperatore, o da un re, o da un vassallo che difende le frontiere. Questo tema, naturalmente, si lega al fatto che la politica nel medioevo è ormai personale. Nei pochi lamenti funebri, nei pochi accenni di lamenti funebri dell'epoca latina, se anche muore l'imperatore, l'impero non crolla. Ecco, al massimo si spiange la singola figura, ma non crolla l'istituzione. Nei lamenti funebri medievali, soprattutto quelli in latine, nel momento in cui muore il fruttatario, il sovrano, abbiamo una crisi storica, una crisi proprio di civiltà. Ecco, crollano le istituzioni, proprio perché vi è questa coincidenza nel medioevo, e proprio dall'epoca carolingia, della coincidenza tra potere politico e potere personale e individuo. Quindi i lamenti funebri, soprattutto quelli politici, raccontano proprio il disfacimento, si trovano di fronte al disfacimento delle istituzioni cristiane, delle istituzioni imperiali del mondo medievale. Ci sono tantissimi esempi che potrei fare delle varie tradizioni del plantus latino. Per dare subito una panoramica, parlerei di un'altra tradizione molto importante, di pianti, di lamenti funebri letterari del medioevo, ed è quella, per esempio, dei lamenti turbadorici, dei lamenti improvvenziali, che si differenziano da quelli latini. Sicuramente perché i defunti che vengono cantati, che vengono lamentati, sono ben diversi da quelli latini, sono vescovi, non sono imperatori, non sono re, e sono quindi tentari, individui di istituzioni universali come potevano essere l'impero o la chiesa. I pianti provvenziali, diciamo, sono quelli del Trecento, quindi si sviluppano su un arco di circa trecento anni, due o trecento anni, i lamenti trovadorici. I plagne, come si chiamavano i plantus, quelli latini, in Provenzale si dice plagne, quindi pianto. Questi pianti in Provenzale, invece, si concentrano su quali individui? Sempre piccoli signori della Francia regionale o dell'Italia settentrionale o della Catalogna, diciamo, le aree in cui la cultura trovadorica era maggiormente difficile. Si tratta di piccoli signori feudali, non di certo re, abbiamo qualche esempio di plagne per i re, ma in sostanza eccezionali, in generale i pianti trovadorici si occupano di piccoli signori feudali relativamente di quelle aree che ho menzionato. Ma è diverso il modo di rappresentare il dolore da parte dei trovatori rispetto a quella dei chierici che si preoccupano, di chierici latini, che si preoccupavano della crollo delle istituzioni universali. I trovatori, invece, si preoccupano del corte. Il mondo che veniva mantenuto in vita e che era stato fondato da questi personaggi illustri era la corte. Sappiamo, adesso voglio fare una lezione di letteratura provinciale e di cultura provinciale, ma sappiamo come la cultura cavalleresca, la cultura amorosa dei trovatori sia incentrata sul ruolo della corte. Il signore cortese, la dama che lo affianca, le dame che animano la vita, i sentimenti, le emozioni di questi trovatori che cantano d'amore, i signori, i grandi signori cortesi della Provenza mantengono in vita questo stile di vita, fondano questo stile di vita cortese che è dedicato alla musica, alla piacere della vita, all'amore e via dicendo. Quindi nel momento in cui questi personaggi illustri muoiono, i trovatori che cosa lamentano? Non lamentano più la fine politica, la fine istituzionale, addirittura la crisi della civiltà cristiana, diciamo, europea, ma lamentano la fine di uno stile di vita, la fine della corte, cioè la fine anche dell'amore. Non si può più cantare l'amore. Ecco, anzi, è anche più meta-litterario il pianto troubadonico per un certo senso, perché proprio il trovatore dice io smetto di fare poesia. Ecco, la poesia, il canto d'amore, il canto troubadonico in generale, non è più possibile. Questi sono temi che non esistono nei lamenti latini, che sono invece più politici e che appunto hanno temi differenti, affrontano temi differenti. I lamenti troubadonici si preoccupano soprattutto della corte, della vita culturale della corte. Ecco, non è più possibile cantare d'amore, non è più possibile, diciamo, danzare, provare il gioia, cioè la gioia che era l'emozione prevalente nell'attività troubadonica. Quindi, diciamo, il plantus latino, che ho voluto riassumere, sintetizzare proprio al limite, e il plan troubadonico sono due grandi tradizioni di lamento lirico del Medioevo. scientificamente, molto improvvisamente, accenno ad altre tradizioni di lamentazione e funebre letteraria sempre del Medioevo, che per esempio possiamo immaginare anche il lamento di Carlo Magno su Roland. Quindi tutti i lamenti narrativi che potremmo citare. Alcuni dei temi che ho citato prima, vengono riutilizzati anche nella lamentazione epica. Il lamentante per eccellenza è il re. Il re che lamenta il proprio eroe, i propri cavalieri, e, diciamo, fin quando il re non si risolleva da questo lamento funebre, la società non può proseguire. la crisi non è tanto nei lamenti della chanson di Roland o nelle altre lamentazioni epiche dell'epica medievale, non è tanto il problema la morte in sé dell'eroe. Il pericolo è il lamento funebre, però, personalmente, che viene considerato come un pericolo, perché il re non è più in grado, come diceva De Martino, non è più in grado di superare la crisi, la crisi della presenza, come diceva De Martino, e il re non è più in grado di proseguire. Quindi il problema non è più tanto la perdita del funto quanto la sopravvivenza della società e del re come figura che regge questi destini, proprio perché il re è inconsolabile di fronte al lutto e alla morte del proprio cavaliere. Carlo Magno riesce a sopravvivere. Alla fine, grazie ai suoi vassalli, a Nabo di Baviera in particolare, nella chanson di Roland, riesce a superare il lutto per la morte di Roland. Invece, chi non sopravvive? Uno dei protagonisti di un'altra epopea molto fortunata nel Medioevo. Si conosce benissimo la saga dei Belunghi, di questo poema video alto tedesco, la storia di Siegfried e Krimhilde è abbastanza nota, meno nota è il fatto che già negli stessi anni in cui veniva composto questo poema, e anzi in tutti i manoscritti che viene presentato questo colubbio, negli stessi anni viene scritto quasi subito una sorta di sequel, di seguito del Nibelunghi Elied, che è la Nibelunghi in flaghe, che è il lamento dei Nibelunghi. Il Nibelunghi Elied vuol dire il canto dei Nibelunghi viene scritto questo altro poema di circa 4.000 versi sul lamento dei Nibelunghi. E cosa racconta questo poema? Che appunto in tutti i manoscritti segue sempre il canto dei Nibelunghi. Il giorno d'oggi non è più tanto noto, ma nel Medioevo era sempre associato alla tragedia dei Nibelunghi. Sappiamo che il poema finisce con la morte sostanzialmente di tutti e quasi, tutti i Burgundi e gli Unni che sono stati invitati a tradimento alle notti di Cremilde ed Attila, ai corti degli Unni di Attila, si consuma questo massacro che è stato causato da Cremilde che vuole vendicare la morte del marito Siegfried, proprio senza riassumere la trama. Che cosa è il Lamento dei Nibelunghi? È sostanzialmente un poema di 4.000 versi in cui Re Attila, che è uno dei pochi sopravvissuti al massacro generale, Re Attila lamenta tutti i morti e i cavalieri che ci sono ammazzati nella vicenda nelle sale del suo palazzo. E a differenza di Carlo Magno non riesce a sopravvivere, nel senso che a causa del lutto, a causa del lamento, il lamento di Attila non rischiude mai. E così il personaggio sostanzialmente non supera la crisi della presenza. Il suo regno si sfalda. Ecco, il suo popolo Attila, che fino al caso dei Nibelunghi è un sovrano potentissimo, a causa di questa incapacità di superare il lutto, il regno di Attila si sfalda. Il suo cavaliero lo abbandonano, la corte rimane deserta e via dicendo. Quindi vedete che si può vedere come abbiamo dei lamenti funebri, letterari, lirici, sui personaggi storici effettivamente vissuti, che appunto si preoccupano di mantenere, in un certo senso, la memoria della liturgia o nelle altre occasioni in cui venivano cantati questi plantus, cercano di mantenere la memoria dei defunti. Il lamento funebre narrativo invece si pone un altro problema, soprattutto nei poemi epici. Cioè la sopravvivenza della società nel momento in cui il re non è più in grado di superare il dolore, di superare la fase del lamento. Chiudo con l'ultima e importante tradizione del lamento funebre medievale che è quella del pianto, della versione del pianto di Maria. Quindi non soltanto il medioevo piange gli eroi del passato, diciamo, nella narrazione, come Volante o i Nevi Lunghi, non soltanto piange le persone illustri del suo tempo, come Capomagno o i vari vescovi e signori feudali, ma piange Dio stesso. Proprio la caratteristica, la novità, diciamo, della religione medievale è proprio quella del Dio che muore, cioè è proprio un elemento proprio solo della religione medievale, anche delle religioni antiche aveva un po' questo motivo, ma nel medioevo appunto gran parte della religione è orientata attorno al Dio che muore e risulta. E appunto attorno al nonno secolo, soprattutto a Bisanzio e poi nei secoli seguenti in occidente e nel mondo latino, nel mondo cattolico, si sviluppa anche il problema di come piangere Gesù. E chi è che piange Gesù soprattutto? è la Vergine. Quindi con lo sviluppo del culto della Vergine, soprattutto nel nonno secolo in poi, un po' più tardi nel medioevo occidentale del X-XI secolo, quando il culto della Vergine si diffonde, ecco che si viene anche sviluppata l'idea che la Vergine pianga Gesù sotto la croce, pianga per la sofferenza, la passione e la morte del proprio figlio. Ricordo che si tratta di leggende e immagini apocrife, perché nei Vangeli canonici di Maria si dice soltanto che Maria stava, Maria viene menzionata sotto la croce soltanto da Giovanni, e si dice che Maria stava sotto la croce in piedi, accompagnata da Giovanni appunto. E non si dice nient'altro. È il medioevo che inventa questo pianto della Vergine, costruisce delle leggende apocrite su un pianto, sulla ricerca da parte della Madonna piangente del figlio che viene portato, viene sballottato da qua e là durante il processo e poi viene portato su Golgotha. E appunto vengono costruite queste leggende, questi pianti, queste canzoni, queste laude, appunto in italiano soprattutto, che vengono, che raccontano appunto la lamentazione di Maria, esprimono il dolore di Maria. E le comunità, le confraternite religiose, laiche, soprattutto sappiamo che tra fine del 200 e inizio del 300 in Italia si sviluppano le confraternite, laiche, che cercano di animare la vita religiosa delle città, queste confraternite piangono e diciamo adottano dei canti collettivi in cui viene messo in scena il dolore della Vergine. Ecco, la Vergine si fa mediatrice del lamento, su Gesù. Diventa santo, diciamo, la vita non viene santificata, la vita del fedele, non viene santificata imitando tra Gesù, ma imitando la Vergine che piange su Gesù. Il problema di queste confraternite è come piangere Gesù e viene individuata questa figura mediatrice che è la Vergine. La Vergine che, appunto, in queste laude, in italiano antico, piange in numerose forme, Gesù, sia quando è ancora morente, sia quando è ormai morto. Ho quindi presentato in maniera molto sintetica le varie aree del lamento funebre medievale, cercando anche di dare un'idea molto generica del lamento funebre in generale, viene antropologico, e poi anche in tante forme della cultura medievale. Grazie. Ebbene, molto interessante, quindi bisogna comprare il libro. Questa è la sintesi. No, anche perché l'evoluzione del lamento nei secoli è qualcosa di significativo e di indicativo delle forme sociali attraverso le quali il lamento si manifesta. Per cui io a questo punto non posso che ricordare il titolo del volume, che è Piangere la memoria, Lamento funebre e culture medievali, di Andrea Ghidoni, appena pubblicato da Carocci. Quindi correte in libreria per scoprire le cose che ci siamo sentiti raccontare oggi dal suo autore che è Andrea Ghidoni e che noi ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie. Invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa troverete tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato fino ad oggi. Grazie ancora e a presto.